si va male vado male faccio fatica a parlarvi di ciò che c'è sui giornali sulla vicenda del piccolo nicolò il bambino morto a longarone ricorderete aveva solo due anni e le indagini vanno avanti ci sono particolari che non tornano la notizia è sul corriere delle alpi in apertura ma è anche sul gazzettino il gazzettino la mette sulle pagine nazionali con due tagli molto molto diversi diciamo il corriere resta più cauto il gazzettino ci va su con maggiore forza diciamo io vi dico questo come sempre bisogna lasciare che chi indaga faccia il proprio mestiere e anche che i giudici giudichino prima di giudicare noi prima di arrivare a conclusioni troppo affrettate ma insomma cose particolari trapelano ed è logico e giusto che i giornali ne parlino insomma certo bisogna andare ripeto con molta molta delicatezza le immagini dice il titolo del corriere delle alpi sono le telecamere le immagini delle telecamere pubbliche smentiscono la testimonianza del papà la tragedia del piccolo nicolò dalle telecamere nessuna traccia della mattina di giochi al parco si sospetta l'intossicazione da droga ma il medico legale chiede più tempo quindi se il medico legale chiede più tempo a me viene da dire anche noi dobbiamo avere pazienza e dobbiamo capire che ci sono degli esperti che stanno lavorando su questa delicatissima materia ed è giusto che facciano il loro mestiere sul gazzettino nazionale vi dicevo pagina 12 la notizia viene data in ben altro modo i genitori lo calmavano con l'ascis ma su nicolò tracce anche di cocaina l'autopsia conferma invece dall'altra parte si dice che il medico chiede ancora ancora tempo qui c'è scritto così l'articolo ed olivia bonetti l'autopsia conferma sostanze stupefacenti causa del decesso del bimbo di longarone dall'esame del capello del piccolo spunta anche eroina scricchiola la versione del papà quindi da quello che si capisce qui dal gazzettino questa famiglia non aveva solo una certa disponibilità di ascis per farsi le canne insomma tanto per essere chiari insomma in giro per casa insomma ma probabilmente c'era anche erano anche dediti a uso di droghe più pesanti qui si parla addirittura di tracce di cocaina e anche di eroina cose veramente inquietanti insomma ma ripeto bisogna che si arrivi alla fine delle verifiche qui vi leggo solo questo paragrafo di olivia bonetti la ricostruzione della giornata in cui avvenne la tragedia era stata fornita ai carabinieri dal padre stesso leggo il paragrafo che si intitola il castello di bugie raccontò il padre che la mattina erano andati al parco sotto casa a codissago per giocare nicolò avrebbe ingerito una sostanza marrone che il padre gli avrebbe subito tolto di bocca e già qui sarebbe stato smentito dai primi accertamenti dei carabinieri del nucleo investigativo bellunese della compagnia di belluno perché le telecamere che davano su quel parco per tutta la giornata non hanno ripreso neanche un bambino nessuno il racconto del genitore proseguiva dicendo che poi erano tornati a casa per pranzo e il piccolo era stato messo a letto per il pisolino ma quando il padre era andato a svegliarlo lo aveva trovato come rintontito immediata la corsa all'ospedale di pieve di cadore con la propria auto dove nicolò era arrivato ormai incosciente dove i medici nonostante tutti i tentativi non sono riusciti a salvarlo ebbene anche qui emerge un particolare inquietante dice il gazzettino il bimbo dopo aver ingerito la sostanza ritrovata su una tazzina nella cameretta avrebbe iniziato ad accusare il malore ma poi si sarebbe ripreso la giornata era proseguita quindi con il pisolino se fosse stato soccorso subito si sarebbe salvato e infine la cocaina ed eroina ritrovata dall'analisi del capello del bambino i genitori hanno sempre riferito di utilizzare solo ascis le canne occasionalmente ma sul piccolo c'erano tracce di altre sostanze e infine la scarsa collaborazione nelle indagini i genitori sono stati invitati a padova per analizzare i loro capelli ma non si sono presentati e per gli inquirenti sta diventando difficile mettersi in contatto con loro dunque questo io non vi leggo altri particolari sul gazzettino qui ne avete da leggere finché volete su questa vicenda se vi interessa approfondirla di più sul corriere volevo farvi vedere qual è l'approccio dell'altro quotidiano bellunese si dice così il titolone a pagina 25 c'è una foto straziante per me quel bambino quel bambino nicolò quella mattina non era al parco nelle riprese non si vedono lui e il papà vedete che il corriere molto più cauto come titolo sta su questa notizia che nicolò quella mattina non era al parco non non enfatizza il discorso della della droga che è scritta nel sottotitolo comunque la circostanza ha indirizzato cioè il fatto che non fosse al parco ha indirizzato le indagini nell'abitazione dove si ritiene che il bimbo abbia ingerito la droga fatale qui l'approfondimento è a cura della collega cristina contento bonetti del gazzettino e contento per il corriere sono colleghe che sono esperte diciamo di fatti anche di cronaca di cronaca nera sanno sanno scrivere di queste cose nicolò feltrin dice cristina contento il bimbo di due anni morto per sospetta overdose circostanze in circostanze non ancora chiarite non è mai stato al parco sydney quella mattina del 28 luglio scorso giorno che ne ha segnato il decesso non ha giocato tra l'altalena lo scivolo la piccola giostra non ha messo in bocca oggetti non identificati raccolti da terra non c'è riscontro della sua presenza e di quella del papà diego nell'area giochi di codissago almeno secondo le indagini dei carabinieri della procura non c'è mai stato quel 28 luglio non risulta neanche dalle telecamere che pure sono posizionate nella zona la presenza di papà e figlio i carabinieri del nucleo investigativo di belluno hanno svolto accertamenti anche in questa direzione scoprendo versioni che non coincidevano piuttosto il bimbo ha ingerito qualcosa in casa che gli è stato fatale hashish che avrebbe trovato nella sua disponibilità tanto casuale quanto tragica nella sua tazza lì pare venisse venisse tenuta la sostanza cioè pare che l'hashish venisse tenuta nella tazza del bambino le indagini dei carabinieri del nucleo investigativo ancora coordinato all'epoca dal tenente colonnello marco stabile si erano dirette subito verso l'ipotesi che nicolò avesse ingerito qualche forma di stupefacente del resto anche la diagnosi dei medici di pronto soccorso di pieve di cadore dove il piccolo era stato portato dicevamo era stata chiara si parlava già subito di arresto cardiaco per intossicazione tant'è vero che nicolò era stato a nicolò era stato somministrato del naloxone che è un farmaco che agisce invertendo gli effetti di altri narcotici il farmaco che si dà nelle overdose e durante i primi accertamenti anche i carabinieri di longarone non avevano trovato testimoni che confermassero di aver visto i due al parco giochi e nello stesso giardino non avevano trovato alcuna droga poi la perquisizione in casa la vicenda appunto del bambino che avrebbe dovuto essere stato messo a letto per questo che dicono insomma poi c'è quest'altro articolo incastrato non ve l'ho letto tutto è avete molto altro da leggere se comprate anche il corriere e poi sempre nella stessa pagina l'altro articolo a firma di gg sosso che dice altri due mesi per l'autopsia test droghe i genitori svicolano questa cosa non piace non è piaciuta per niente perché capite perché non si sono presentati alla richiesta di sottoporsi all'esame tossicologico viene da pensare che ci sia qualcosa o molto da nascondere papà e mamma di nicolò non fanno l'esame di tossicologico nell'inchiesta aperta per omicidio colposo sulla morte del bambino di due anni di codi sago sia diego feltrin che serena doff erano stati convocati in un laboratorio di padova ma per quel giorno si sono resi irreperibili e non ci sono andati intanto il medico legale antonello cirnelli quello che fa le autopsie varie volte intervenuto in provincia di belluno ha chiesto al sostituto procuratore simone marcon una proroga per la consegna dei risultati dell'autopsia eseguita lo scorso 3 agosto all'ospedale san martino di belluno insomma ripeto qui potete leggere ulteriori particolari dunque io ho cominciato così non un inizio sereno questa rassegna stampa di radio piave in blu di oggi mercoledì 5 ottobre buongiorno a tutti da luigi guglielmi come al solito alla rassegna la conduciamo noi giornalisti dell'amico del popolo mi dispiace fin lasciare questa immagine che spezza il cuore ma vogliamo tutti bene insomma a questo bambino e in questo dolore immenso insomma che circonda tutta questa vicenda insomma noi ci auguriamo solo che venga fatta la dovuta chiarezza da chi sta indagando e non abbiamo dubbi insomma che ci si metterà tutta la buona volontà ecco allora dicevamo sulla prima pagina del corriere delle alpi vi leggo i titoli principali come al solito del titolo di apertura vi ho detto quello sul nicolò poi c'è la vicenda dell'ospedale di lamon il gazzettino la mette più in rilievo rispetto al corriere delle alpi che gli dedica un titoletto nella parte di destra ma qui c'è il succo importante della notizia ospedale di lamon l'uls ieri ha fatto una conferenza stampa e ha detto che ci vorrà ancora un anno per finire i lavori ma i servizi che sono stati spostati proprio per permettere i lavori torneranno a lamon l'uls ha preso l'impegno dice il titolo un altro anno per finire i lavori l'impegno dell'uls torneremo qui il centro di riabilitazione trasloca dall'ospedale di lamon a quello di feltre i lavori saranno completati per settembre 2023 a pagina 22 poi approfondisce milano questa questa notizia c'è una vicenda di sindacati feltre la will in affitto nei locali del segretario ma è tutto in regola sedico bella notizia olis e polaris arriva il premio da 1600 euro per i lavoratori premi di produzione di oltre 1600 euro per i 182 lavoratori degli stabilimenti di olis e di polaris di sedico e questa è una buona notizia non è la prima volta appunto che vediamo questi gesti di solidarietà verso i lavoratori che hanno spese sempre più alte per il caro energia le bollette tutto quello che ben sappiamo insomma se l'azienda fa buoni numeri di bilancio è molto bello poter dare la notizia che c'è un atteggiamento di attenzione e solidarietà verso i dipendenti molto bene turismo bianco sono vuoti i bacini di innevamento e questa è un'altra tegola sugli impiantisti non è piovuto abbastanza da rimpinguare le sorgenti e lo sci guarda con preoccupazione ai laghetti per innevare dove acqua non ce n'è abbastanza la foto centrale del corriere delle alpi mostra un torrente dei nostri e una centralina idroelettrica si tratta delle piccole centraline la provincia di belluno chiede una deroga al deflusso ecologico sapete che c'è un limite di prelievo per garantire la vita dei torrenti questo si chiama il limite di deflusso ecologico la provincia chiede una deroga chiede di poter andare al di là del limite perché le centraline dice devono poter funzionare a pieno regime vi leggo la didascalia poi qui approfondisce aliprandia pagina 17 estendere la sperimentazione le simulazioni in atto sul deflusso ecologico a tutti gli impianti idroelettrici cioè anche le centraline e questa è la richiesta che l'ente provincia rivolge all'autorità di bacino distrettuale anche allo scopo di ottenere una deroga all'entrata in vigore della normativa che impone appunto il deflusso ecologico si teme questo 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 punto di arrivo insomma del deflusso ecologico e poi c'è sempre per la rubrica le nostre storie del corriere c'è questo titolo in taglio basso come sempre insomma cercansi dentisti per curare gratis chi non ce la fa appello della farmacia dell'immacolata di san gervasio belluno il servizio che aiuta le famiglie che non riescono a pagare medicinali e alimenti per bambini figuriamoci un dentista ne abbiamo uno che presta opera gratuita a favore delle fasce deboli ne servirebbero altri questo è chiaramente un appello se ci sono dei dentisti che hanno voglia disponibilità di aiutare chi non ha i soldi per andare dal dentista perché sappiamo com'è il discorso insomma ecco c'è chi è disposto a organizzare insomma interventi a favore di queste categorie di persone dunque tornando all'interno del corriere la pagina 15 che la prima della della sezione di belluno pnrr due progetti per 5,5 milioni daremo autonomia a disabili e anziani appartamenti di comunità e telecontrollo per non essere soli previste anche iniziative per famiglie in crisi con bambini c'è la foto dell'assessore al sociale del comune di belluno marco dal pont che anche assessore alle politiche per la famiglia marco che conosco tipo da quando avevamo 15 anni e quindi lo saluto anche da qui ciao marco andando avanti centro vaccinale di salcia ieri ha cominciato le attività e ieri le prime sedute contro il covide e anche contro la tbe il drive in ci sono code a paludi perché i tamponi sono in aumento perché la gente ha sintomi va a farsi il tampone e purtroppo sappiamo che l'incidenza è in aumento ieri avevamo fatto i calcoli come amico del popolo con le nostre solite tabelle anche se non le abbiamo pubblicate siamo attorno a 750 che è molto alta il limite della pandemia dovrebbe essere 50 siamo a 750 dunque provincia deroga per le centraline devono funzionare a pieno regime l'abbiamo l'abbiamo detto c'è una foto significativa però delle sorgenti del piave il piave mormorò con un cartello appeso sulle sorgenti con scritto mormoro poco mormoro poco per le ragioni che ben conosciamo insomma ecco dunque bigiannone che ha fondato il suo movimento siamo belluno si amo belluno laboratorio politico vuoti bacini di innevamento il mondo dello sci è in allarme feltre centro a senso unico una ciclo pedonale garantirà il transito in sicurezza alle biciclette questi sono le notizie che arrivano sullo studio della nuova viabilità a feltre voluto dalla dalla nuova amministrazione guidata da viviana fusaro poi arriviamo alla mon ospedale la fine dei lavori slitta settembre 2023 ma appunto per la direttrice generale dell'ulsa dolomiti che qui vediamo anche in una foto con il sindaco loris maccagnan per la direttrice bisogna stare tranquilli perché alla fine dei lavori l'ospedale riabilitativo dice proprio il virgoletato tornerà a funzionare a pieno regime e il sindaco replica l'attenzione resta alta vigileremo sulle tempistiche capite bene che il rischio è sempre quello si comincia a spostare qualcosa poi non è detto che torni no invece qui c'è l'impegno del dell'ulsa a far tornare tutto come prima parte alta della provincia cadore cortina festa rifugio averau una storia di famiglia sandrone si orpa s non possiamo fermarci rifugio averau che è uno degli spettacoli della del nostro territorio lozzo ieri l'inaugurazione un percorso pedonale per spingere i cittadini a prendersi cura di sé ci sono spesso queste iniziative chiamate un chilometro al giorno pista da bob lorenzi dice stop alle polemiche tuona anche il consigliere dell'opposizione pompanin bortel su dove farla si può discutere il resto sono chiacchiere quindi c'è la volontà anche da parte dell'opposizione di farla la bellezza ritrovata dell'assunta di tiziano riecco i colori dipinti da tiziano ultimato dopo quattro anni lavoro di restauro della pala monumentale della basilica dei frari questa cosa vale una visita a venezia cari amici che ci seguite in questa segna stampa l'assunta di tiziano i frari che di per sé è un posto incredibile la basilica dei frari adesso con questi nuovi colori che ha acquistato che sono i colori veri di quando tiziano la la creò veramente è un luogo da visitare e con questo lascio il corriere per andare velocemente a farvi vedere qualcosa di più del gazzettino dove purtroppo c'eravamo fermati a pagina 12 del nazionale con la notizia del povero nicolò di longarone ma adesso vi mostro la prima del fascicolo di belluno è a belluno in centro devo dire la verità anche io ho avuto l'impressione di una certa mi sono sentito anche preoccupato a girare all'imbrunire eccetera perché la città è abbastanza vuota e girano gruppi di giovani che non ti lasciano proprio del tutto tranquilli insomma si sa che ci sono stati anche vandalismi eccetera il titolone questo baby gang intervenga il prefetto ed è un virgolettato i commercianti del centro sono esasperati situazione ingestibile lettera congiunta per chiedere maggiori controlli sotto i portici sgambetti sputi alcol e risse sono diventate una costante soltanto le istituzioni ci possono aiutare a tenerli a freno centro storico di belluno ostaggio di una nutrita baby gang che bivacca sotto i portici rende impossibile da vita ai commercianti sporcizia provocazioni sgambetti ai passanti alcol e risse sono diventate una regola nel tratto dei portici che si infilano nella galleria psaro vera roccaforte della banda composta anche da una trentina di ragazzini ieri stanchi di una situazione ormai ingestibile che allontana anche i clienti hanno inviato una lettera al prefetto e al sindaco per chiedere un intervento di virgolette sanificazione solo le istituzioni possono fare qualcosa afferma zha con questa gente è impossibile ragionare zha ha proprio il negozio affacciato da un lato sui portici della piazza dall'altro appunto sulla galleria psaro poi incastrato con questo articolo perché si parla comunque di delinquenza c'è quest'altro tema affidato a piol il triste primato nella classifica degli stupri belluno resta tra le città più sicure ma il dato peggiore è quello delle violenze sessuali raddoppiate nel 21 rispetto al 2020 tanto da posizionarsi da posizionare belluno al quarto posto della classifica del sole 24 ore che fotografa l'andamento dei reati pessima posizione anche per le truffe la foto centrale riguarda la mon centro riabilitativo chiuso per restauro e la mon è la riabilitazione dice un cartello la mon siamo in ginocchio senza l'ospedale chiuso l'ospedale riabilitativo di la mon i lavori per concludere la ristrutturazione statica del nosocomio hanno costretto a trasferire i pazienti a feltre e questo preoccupa sia il primario ballotta che i cittadini ma vi leggo questa bella notizia cortina ha deciso di tenere al freddo le chiese almeno per un po chiedendo solidarietà chiedendo comprensione ai fedeli perché i soldi verranno distribuiti alle altre parrocchie che hanno meno soldi chiesa al freddo a cortina solidali con tutti gli altri don ivano brambilla un sacrificio per aiutare chi ha meno possibilità di noi messe al freddo a cortina per aiutare le parrocchie più povere ad accendere l'iscaldamento almeno natale il parroco don ivano brambilla ha preso la decisione insieme al consiglio pastorale ha senso annunciare questa misura oggi 4 ottobre giorno in cui si ricorda san francesco che fece della povertà la sua missione e nella sua chiesa a lui dedicata perché queste frasi sono state dette ieri nella giornata di san francesco nella chiesa di san francesco appena riaperta al pubblico e al culto a cortina rispetto al suo esempio cioè quello di san francesco a noi si chiede ben poco di indossare un maglione in più per dare a chi non ha bellissimo gesto di don ivano che salutiamo anche da qui ciao don ivano limana lampioni spenti a metà eppure la bolletta sale limana risparmia ma non basta ancora ieri avete letto anche sull'amico del popolo www amico del popolo punto it il sindaco snocciola le cifre record e annuncia il nuovo giro di vite inevitabile sull'illuminazione sarà spenta dalle 23 il comune di longarone contro l'ampliamento di metalba il lancio poi santin che approfondisce imprese questo è importante firma fant la regione rassicura c'è un tavolo per gli ex dell'acc tavolo di lavoro regionale per ricollocare gli ex dipendenti guamba o acc che non sono destinate all'assorbimento nella sest che ha acquisito gli stabilimenti il numero degli esuberi nel frattempo è sceso a 84 unità e una parte è destinata al pensionamento il sistema pubblico regionale ha inviato oltre 100 candidature per l'ambito metalmeccanico industria e servizi e che tutti i lavoratori disponibili sono stati candidati a una o più offerte a parte qualche problema di costruzione della frase nella nella prima pagina qui insomma avete capito la regione è convinta di riuscire a sistemare a ricollocare tutte queste persone che hanno perso sono rimasti fuori dal passaggio della cc alla sest allora io con questo mi mi fermo qui mentre vi sfoglio le pagine interne del gazzettino come sempre vi ringrazio per la vostra attenzione buon mercoledì 5 ottobre da luigi guglielmi ciao a tutti